Sono ancora aperto, come un tempo, per scrivere di fuori a porta. Ma l'agenzia che si andava bene, fuori dentro e tutta a porta. Qualcuno è andato per età, qualcuno, perché già dottore, e insegne una maturità, scelto zato, ma fa carriera, e d'onore per un po' di giù. Pagano sulle foglie, sugli occhi, sulle strade che hanno scelto. Delle rabbia antiche non rimane, che una frase o qualche gesto. Grazie. Grazie. Grazie.